L'accusa è pesante, avere messo in piedi un giro di affari per far arrivare irregolarmente sulle coste siciliane i migranti provenienti dalla Tunisia. Il tutto promettendo addirittura maggiore sicurezza negli spostamenti via mare. Ma questa presunta sicurezza aveva ovviamente un costo molto salato, che ricadeva naturalmente su chi doveva affrontare il viaggio. Ma c'è un altro aspetto tra quelli sviscerati dalla Guardia di Finanza, e cioè che veniva offerta maggiore copertura a coloro che arrivavano in Italia con intenti illeciti. Una vicenda messa a nudo dall'inchiesta ribattezzata Ciaron, Caronte, dal nome del nocchiero dell'inferno dantesco. Dieci le persone arrestate tra Grigento, Trapani, Caltanissetta, Messina, Raguse e Siena, accusate a vario titolo di associazione a delinquere e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Gli investigatori, grazie alle intercettazioni ma anche a controlli capillari e pattugliamenti via mare, hanno ricostruito la rete dei presunti scafisti, pronti a offrire servizi efficienti grazie all'utilizzo di gommoni di ottima qualità, con cui migranti e non venivano accompagnati verso le coste agrigentine trapanesi e facendo anche in modo di evitare i controlli delle autorità italiane.